È il pensiero che conta, non il regalo in sé. Quante volte sentiamo dire da chi eventualmente riceve un regalo questa frase? Io penso tante, tante volte molti esseri umani ma non tutti per farsi vedere dei finti perbenisti dicono ma non è che conta il regalo, è il pensiero che conta, basta un pensiero, basta una piccola cosa. Ecco sappiate che in realtà questa frase occulta, cela, una realtà che di fatto, de facto, non vuole essere vista. E qual è? Quella secondo cui, dovendo rappresentarlo in maniera diretta, il pensiero comune è il seguente. Ma guarda che cazzo mi hai regalato, mi hai fatto un regalo di merda, mi fa cagare, preferivo un bel regalo grosso, mi devo accontentare di questa merda secca. Punto. Ecco questo è il pensiero che in realtà esprime, occulta e cela la frase. Non è il regalo che conta, basta il pensiero, è il pensiero che conta, null'altro. Ecco, perché noi, come già detto in tanti dei miei video, il video sulle false santarelline ne è un valido esempio e ne ho trasmesso, noi esseri umani in pubblico ci andiamo a mascherare. Noi in privato siamo in un modo, nel privato, nel pubblico, con gli amici, siamo, o meglio diventiamo degli stronzi per esempio, no? Ci mettiamo lì a vedere i video su YouTube, in gruppo, per farci due risate. Oh, guarda un po', vediamo il video di questo coglione di Leandro, no? Eccoci qui, mettiamoci davanti al computer, io, Luigi, Marco, Giulio, Carmine, e vediamo il video del coglione, va bene? Facciamoci due, tre risate, vediamo il coglione cosa ci dice oggi, vero? Vero ragazzi? Quante volte l'avete fatto, eh? Eh, bravi, 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 continuate così, che siete molto bravi in gamba e simpatici. Ora, il fatto è questo, è che questo comportamento già vi fa capire che noi siamo diversi nel privato e nel pubblico, nel pubblico e nel privato, ok? Noi siamo in un modo, nell'ambito pubblico, siamo in un altro nell'ambito del privato, nel privato, ok? Ma oltre a tutto questo, c'è da dire, c'è da riconoscere, una cosa molto, molto semplice. E qual è questa cosa? Che noi abbiamo delle maschere, che decidiamo di andare ad assumere. Questo che significa? Che come il buon Pirandello ci insegna nelle sue straordinarie, leggendari opere, noi non siamo mai un'unica persona, un'unica entità, ma noi siamo costruiti per maschere. Ci mettiamo, ci poniamo dei ruoli diversi, che andiamo letteralmente ad incarnare, ok? Questo ovviamente è triste, questo ovviamente è un dato di fatto negativo, perché noi in teoria, e solo in teoria, dovremmo essere sempre noi stessi, con i nostri pregi, con i nostri difetti, con quel qualcosa che non va e quel qualcosa che va e che funziona. Invece no, perché nella società di oggi dobbiamo essere in un modo, con gli altri, educati, rispettosi, poi però quando siamo con gli amici, facciamo gli stronzi, facciamo i figli di puttana, facciamo i bulli, facciamo gli stronzi, i testi di cazzo. Esempio, guardiamo quello che fa il test di cazzo le andrologiche, chissà che figli avrà fatto quel coglione, vero? Mettiamoci da un tavolo a vederlo, va bene? Ecco, questo è lo stesso che sto dicendo, ecco. Quindi questo vi fa capire chi siete, chi siamo e chi saremo, ecco, va bene? Perfetto. Ora, io vado avanti nei miei esami e dico una cosa molto semplice, ed è questa, che la frase stessa, basta il pensiero, è il pensiero che conta, ci fa capire che noi preferiamo apparire come persone che siamo attaccate al pensiero e non al regalo quando in realtà quasi tutti, la maggior parte degli esseri umani, sono governati da voglia di avere il bene materiale. Sono attratti dai soldi, dalla pecunia, anche se sono attratto dai soldi, io non lo nascondo, non l'occulto, non occulto questa mia, chiamiamola, caratteristica, va bene? Però molti preferiscono non volerla dire, non volerlo ammettere. Io lo ammetto, la maggior parte degli esseri umani invece no. No, a me non mi interessa il regalo, ma guarda, non mi devi fare nemmeno i regali, non mi devi fare. Perché mi hai fatto il regalo? Non lo voglio, perché me l'hai fatto? Poi va bene, lo va a prendere subito, in mano se lo tiene i santi benedetti. Ecco, questo vi fa capire che cosa? Che c'è un'ipocrisia di fondo che di fatto, de facto c'è. Ok? L'ipocrisia umana, l'ipocrisia umana che c'è, c'è stata e sempre ci sarà. Esempio pratico, guarda, è il compleanno di Luigi. Luigi ha fatto gli anni. Tanti auguri Luigi, io Leandro ti ho fatto questo regalo. Luigi mi potrebbe dire, no guarda Leandro, non mi devi fare il regalo, guarda, proprio hai fatto male, io non volevo il regalo oggi, non me lo devi nemmeno fare. Te lo potresti anche riprendere se vuoi, se volessi, ok? Non me lo devi fare, perché me l'hai fatto Leandro? Perché me l'hai fatto? Non volevo averlo, io regalo. Poi dopo due istanti, vabbè, ok, lo accetto lo stesso. Mi vedo costretto ad accettarlo perché è il mio compleanno. Quando nella mente di quel ragazzo, di quell'uomo, di quel signore, il pensiero è, che bel regalo che è, oppure che brutto regalo. Però se pensasse che è brutto regalo, direbbe, secondo me, ma, guarda, grazie mille, però comunque sei stato troppo gentile. Ma è il pensiero che conta, non tanto il regalo. Quindi potevi anche non farmelo, dai, su via, su via Leandro, su via, dai, su via. Oppure se gli piace quel regalo, farà finta di essere disinteressato, no? Guarda, non, guarda Leandro, proprio non devi farlo, non mi interessa, non mi piace, non è il mio tipo, non è il mio genere. Guarda, proprio non mi interessa, guarda, proprio non mi ritieni lontano, non lo voglio nemmeno avere vicino questo regalo di merda. Questo regalo qua, non lo puoi vedere. Invece magari lui pensa in quel suo, ma mai che bel regalo, lo vorrei subito prendere, infatti dopo qualche istante lo prende, ecco. Vedete quella difficoltà, l'ipofisia umana? Noi occultiamo noi stessi, occultiamo, l'occultamento avviene. Noi siamo diversi da quello che nella realtà dei fatti siamo realmente, ok? Ci mascheriamo e recitiamo diversi ruoli. Noi, se volessimo, noi siamo dei grandi attori, siamo tutti degli eccellenti attori e potremmo davvero sbarcare a Hollywood. se solo volessimo, ok? Questa è la mia opinione. Ringrazio tutti per l'ascolto, per la visione di questo video di oggi. Iscrivetevi, se vi va, commentate. Un saluto da Leandro, conoscitore italiano. Condividete questo video, arriviamo a 3.000 iscritti.